Allora, malgrado la grandine, tutto bagnato siamo usciti uguali, questo, lui, sì, è lui, è un porcino, bello. Vittorio scava tu, questo è spettacolare, porca miseria, bellissimo, puliamolo bene così da esporre, beccato si è piegato chi c'è? No, vado a prendere il portellino, intanto io guardo, ok, aspetta, facciamo anche una foto, scusate il fiadone ma ci siamo inerpicati, guardate là e qua, aspettate, complimenti, lui l'ho trovato io, mamma mia che fiadone però, vai, eccolo, che gambo, che panciotto, bellissimo, bello, bello, bravo. Vedi dove escono, dove sta pure l'erba, bello, bravo Vittorio, bello, eh? Allora, qui c'è uno di questi velenosi, ammanita, se volete avvelenare qualcuno ve lo prendo, eh? Grazie.